ma ben a tutti siamo tornati qua sul nuovo video sempre a questi video ludici per parlare di una serie che mi ha appassionato dall'inizio perché dopo quando ho avuto la ps1 ho avuto la 360 e il primo gioco della 360 che ho avuto Assassin's Creed e questo è un signor gioco di Assassin's Creed e dopo io diciamo i primi tre sono diciamo i più belli e poi piano piano sono andati a calare poi questo qua era per l'Xbox dopo sul sempre sulla playstation 4 la trilogia l'acclamata trilogia che per me sono gli ultimi giochi fantastici dopo un po' sono andati a calare Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Broader Road e Assassin's Creed Revelation Collection poi c'è Assassin's Creed 3 che qua ha la copertina è veramente fantastica che non me la ricordavo così qua dentro però va bene il manualino però anche questo mi è piaciuto un sacco la copertina è la special edition con un segreto pericoloso include il contenuto sbloccabile aggiuntivo mi piaciuto un sacco la copertina come è fatta poi poi andiamo un po' a scendere un po' perché la copertina è stata anche Syndicate con perché questo è sempre per l'Xbox One la special edition il complotto di Darwin include il complotto di Darwin e Dykens poi c'è stato anche Assassin's Creed Rogue che ho preso la remastered che anche questo è un po' niengno poi sempre su PS4 preso Assassin's Creed Unity con la special edition include 30 minuti di gameplay aggiuntivo la rivoluzione chimica che è ambientato a Parigi invece Rogue è stato ambientato in Nord America poi c'è sempre per Xbox One Assassin's Creed Chronicles che questo non l'ho giocato perché non l'ho preso quando ho staccato l'Xbox One quindi c'è un sacco di aggiornamenti ma lo voglio recuperare e sono tre viaggi uno in Cina, uno in India e uno in Russia con i tre assassini Xiaojun, Arbath e Orlovu veramente dopo i primi sono andati sempre a scendere poi hanno fatto anche Assassin's Creed Black Flag che è il tema piratesco e poi sono gli ultimi due che hanno perso proprio il tutto il senso degli assassini Assassin's Creed Origins che queste era più diciamo più per diciamo ampliare un po' la collezione per rendere più figa con le steelbook qua con Assassin's Creed Origins e dietro c'è questo qua che poi ovviamente ci sono i vari che Origins l'ho preso su Xbox che poi ci sono i vari DLC da prendere poi l'ultimo di Assassin's Creed che anche qua hanno perso veramente tutto i vari modalità furtive eccetera eccetera e l'ho preso su PlayStation 4 Odyssey soprattutto i primi due cioè se io faccio la modalità diciamo modalità furtiva che con le lame che con l'attacco con le lame mi devi dare l'opportunità di farlo fuori immediatamente l'avversario non che devo salire di livello e poi riuscirò ad affrontarlo al meglio io essendo un amante di Assassin's Creed dopo Assassin's Creed secondo me si dovevano fermare cioè proprio fare questo Assassin's Creed Assassin's Creed 2 Brotherhood Revelation e Assassin's Creed 3 cioè alla fine fare così e alla fine fermarsi invece loro hanno voluto continuare a parere mio sono un po' si sono belli come trame eccetera però cioè l'hanno un po' è andata un po' a perdere diciamo le varie serie di Assassin's Creed e niente questo era un'altra serie che ci volevo ottenere che e poi comunque se usciranno altri Assassin's Creed li continuo a prendere perché comunque è una mia serie che mi è sempre piaciuto e niente ci vediamo al prossimo appuntamento Balla è un po' è un po'